ok ragazzi mi sa che devo andare giù di qua oggi riparto da solanas dove ho la base in pratica anche stasera verrò qua a dormire farò l'ultimo tratto che mi porterà a villa simius con le solite pause foto e a villa simius aspetterò le quattro dove ci sarà una bella sorpresa è molto meglio e mi sa che avevo sbagliato qualcosa nel nel gonfiare le gomme stamattina che ogni tanto io controllo le pressioni e tutto e qua ci ritroviamo su ancora sulla cagliari villa simius poi ho tolto un po di bagagli e la moto un'altra cosa facciamo a villa simius simius qua davvero che posti ragazzi comunque in questo video ragazzi vi porterò una sorpresa bellissima spero interessante sarà anche magari il titolo vedete in copertina quindi capirete cosa farò quindi ci vediamo dopo cioè ci vediamo dopo via che si parte gira in quota per la sardegna ragazzi ciao grazie Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info 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 Grazie a tutti. 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 Yeah. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.